Come portare i bambini per una visita ortodontica? Non per applicare immediatamente un'apparecchiatura ortodontica ma per poter controllare la situazione più in generale dei pazienti, impostare un corretto piano preventivo che preveda in primo luogo la prevenzione della carie e delle malattie gengivali e successivamente a questo valutare da un punto di vista ortodontico la presenza di una malocclusione e l'eventuale indicazione a iniziare la terapia. Relativamente a un altro quesito che spesso ci viene posto a quanti anni iniziare la terapia ortodontica è difficile dare una risposta univoca in quanto generalmente ogni malocclusione prevede dei tempi di trattamento specifici per quel tipo di malocclusione. Quindi il fatto di dire o come si riteneva corretto in passato tutti i casi devono essere trattati il più precocemente possibile ad oggi non trova più il sostegno della ricerca scientifica. Quello che noi sappiamo è che le tipologie variano e varia quindi l'approccio terapeutico in ordine ai tempi di terapia, alla tipologia delle terapie e soprattutto con un grande sguardo alla prognosi quindi alla possibilità o meno di portare a casa un risultato che sia accettabile e stabile soprattutto nel tempo. Parlando di idealità dei tempi di trattamento occorre specificare a che cose ci riferiamo. Ideale è una terapia che rispetti il criterio di efficacia ed efficienza quindi ottenere il massimo del risultato con un minor dispendio di tempi, di energie e di collaborazione. A questo riguardo un altro quesito che ci viene posto è con quali apparecchi esistono apparecchi fissi o apparecchi rimovibili e la scelta non è casuale e quindi la scelta non può essere fatta dalla famiglia per il proprio figlio. La scelta dipende dalla tipologia di malocclusione. Facendo un paragone con la medicina i farmaci curano determinate patologie e solo certe patologie quindi sono specifici. I nostri apparecchi sono specifici per determinati tipi di malocclusione quindi l'intercambiabilità degli apparecchi ortodontici è praticamente impossibile. Quindi per una determinata malocclusione sarà meglio utilizzare un apparecchio rimovibile e solo questo, per un'altra malocclusione sarà meglio utilizzare un apparecchio fisso e solo questo. Quindi la scelta è dettata dal tipo di malocclusione e non è una scelta che viene lasciata ai genitori. Spesso si sente parlare di due altri aspetti che riguardano questa disciplina. Tempi di trattamento troppo lunghi piuttosto che denti che non rimangono nella posizione ottenuta dopo le terapie. Alcune terapie possono richiedere dei tempi molto veloci, alcuni mesi. Altre terapie invece possono richiedere tempi più prolungati. Però dovendo dare un timing massimo diciamo che oggi è considerato quale tempo massimo, un tempo che non abbia a superare i due anni e mezzo circa. Relativamente alla stabilità dei risultati, qualsiasi caso deve essere valutato da questo punto di vista e tutti i casi devono essere mantenuti, devono essere stabilizzati mediante delle metodiche appropriate che possono essere rappresentate da delle placche o da altre metodiche fisse come gli splintaggi.